Tante contraddizioni nelle parole di Matteo Cagnoni nelle quasi otto ore di interrogatorio dell'aula di corte d'assise al Tribunale di Ravenna. L'udienza del venerdì ha visto la testimonianza più attesa, quella del dermatologo accusato di aver ucciso barbaramente il 16 settembre del 2016 la moglie Giulia Ballestri. Un processo che ha dimostrato di essere al centro della curiosità popolare, con tante persone, circa 300, che già dalle prime ore del mattino erano in fila per poter entrare in aula con lo scopo di vedere ed ascoltare le risposte del medico alle domande dell'accusa. E sin dalle prime risposte il dermatologo ha ricostruito la propria verità, negando di essere l'omicida della madre dei suoi figli, andando però spesso a contraddirsi. E la prima incongruenza sarebbe emersa già dal ricordo dell'ultima volta in cui Cagnoni avrebbe visto la moglie viva, ovvero una data ed un orario del quale, secondo i risultati degli esami autoptici dei medici legali sulla vittima, Giulia sarebbe già stata uccisa. Molti dubbi sono stati poi sollevati dalle telefonate intercorsi in quei giorni del 2016 con il proprio avvocato e le risposte non hanno convinto l'accusa. Sulla fuga all'arrivo della polizia nella villa di Firenze, anche questo un tema al centro dell'interesse per la stranezza del comportamento, il dermatologo ha motivato di aver avuto un attacco di panico. Lunedì prossimo la parola passerà alla difesa.